I buchi neri non sono affatto buchi, anzi sono qualcosa di densissimo, un concentrato di energia. E non sono affatto neri, appaiono neri a noi, ma loro non sono neri. In quest'ultima puntata andiamo a vedere come sono dentro i buchi neri. Puntata buia questa. Ipotizzeremo un fantascientifico viaggio nei loro meandri e alla fine vedremo che qualcuno ha immaginato che invece fossero proprio dei buchi. Ma dei buchi un po' particolari. Dai che si comincia. No basta, questa ha rotto adesso. Dobbiamo preoccuparci dei buchi neri. C'è chi a volte si immagina che i buchi neri col tempo inghiottiranno tutta la materia dell'universo. Niente paura, la gravità del buco nero si comporta esattamente come previsto dalla relatività generale di Einstein in tutte le zone in cui abbiamo un forte concentrato di massa ed energia. Ma al di fuori del buco nero, a una distanza diciamo di sicurezza, possiamo tranquillamente continuare ad utilizzare le più semplici leggi di Newton. Diamo qualche numero. Per un buco nero che abbia un orizzonte degli eventi di 30 km, la teoria di Einstein si discosta molto da quella di Newton solo per un raggio di circa 1000 km. Cioè su scala cosmica praticamente niente. Al di là dei 1000 km valgono benissimo anche le leggi di gravitazione di Newton e il buco nero influenza i corpi lontani esattamente come una normale stella con una massa equivalente. Per capirci se improvvisamente il sole diventasse un buco nero, l'orbita della Terra non cambierebbe di una virgola e non ci risucchierebbe nessuno. C'è però più di una sostanziale differenza fra le leggi di Einstein e quelle di Newton per restare nell'ambito dei buchi neri. Per ora non ci siamo ancora preoccupati di un fatto, ossia che i buchi neri ruotano. Questo perché le stelle che già di loro ruotano, il nostro sole ad esempio ruota, collassando aumentano la propria velocità di rotazione. Per lo stesso principio che fa sì che una pattinatrice sul ghiaccio, quando porta le braccia al corpo, aumenta la velocità di rotazione. La pattinatrice non fa assolutamente nulla per accelerare. Il tutto avviene naturalmente per una legge fisica che si chiama conservazione del momento angolare. Non è qui il video in cui parliamo di questa legge, in ogni caso è sotto gli occhi di tutti coloro che guardano le pattinatrici sul ghiaccio. O anche i pattinatori sul ghiaccio. Succede anche a loro. E succede anche alle stelle. Pertanto, più una stella collassa, più gira veloce. La differenza fra la teoria di Newton e la teoria di Einstein è che per Newton un corpo rotante, senza oscillazioni, non modifica la sua gravità per effetto della rotazione. Nella relatività generale invece le cose cambiano. Si creano quelli che vengono chiamati vortici gravitazionali. Un po' come l'acqua attorno allo scarico di un lavandino. Giusto per fare un esempio poetico. Dunque, se definita una regione più esterna rispetto all'orizzonte degli eventi, all'interno della quale, a causa dei vortici gravitazionali, per i corpi è impossibile rimanere immobili. Questa zona, che ha più o meno una forma di questo tipo, viene detta ergosfera. E prima della fine ci torneremo sopra. Quindi vuol dire che non riusciamo a stare immobili. Nel senso che ne riparleremo. Per concludere, aggiungiamo che la struttura dello spazio-tempo in un buco nero è completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Ma per capirlo, dobbiamo caderci dentro. Se cadessi verso un buco nero, magari ci mandiamo una telecamera, tanto per non rischiare. Senti Braveheart, se ci mandiamo una telecamera una volta che supera l'orizzonte degli eventi, col cavolo che ci rimanda indietro qualcosa. Non può più trasmetterci nulla, dobbiamo andarci noi. Ma poi anche noi, non pensarci adesso, non pensarci. Fai un bel respiro e si parte. Torniamo al nostro buco nero. Oltrepassando l'orizzonte degli eventi, non noterei nulla di speciale. Solo che a quel punto non potrei più tornare indietro. Però potrei anche non saperlo. Immaginate come quei film thriller dove esplorate le stanze di una casa misteriosa. Mentre passate da una stanza all'altra, avete la sensazione di poter anche tornare indietro. Ma a un certo momento sentite chiudere improvvisamente la porta alle vostre spalle. E... Un colpo di chiave nella toppa. A quel punto sapete che da lì non tornate più indietro. Come dicevamo, la struttura dello spazio-tempo in un buco nero è molto particolare. È difficile da descrivere senza utilizzare le equazioni matematiche. Ma proviamo comunque a capire cosa succede. Lo spazio e il tempo, come siamo abituati a vederli noi, sono praticamente invertiti. Vediamo come. Una caratteristica per noi evidente è che il tempo scorre e lo spazio no. Io posso fermarmi nello spazio, ma non posso fermarmi nel tempo. Nel momento in cui cominciamo a precipitare in un buco nero, lo spazio comincerà a passare in modo inesorabile, esattamente come fa qui sulla Terra, il tempo. Quindi qualsiasi cosa facciate, voi continuerete a cadere inesorabilmente verso il centro del buco nero. Così come qui sulla Terra, qualsiasi cosa facciate, il tempo continuerà a scorrere inesorabilmente. Non solo, ma i calcoli dimostrano chiaramente che, per effetto di questa inversione, se voi cercate in qualche modo di rallentare la vostra caduta attraverso razzi, propulsioni o altre diavolerie, non servirebbe a niente. Anzi, ai vostri occhi la rendereste ancora più rapida. Se volete impiegarci il maggior tempo possibile a cadere, non dovete fare assolutamente niente. Niente. Devi togliere le mani dal volante e non fare assolutamente niente. Nessuna reazione immobile. Se foste incadute in un buco nero, dicevamo, per un certo periodo potreste anche non accorgervene. Diciamo che questo avviene per buchi neri molto, molto massivi, quindi che hanno un orizzonte degli eventi molto ampio. A un certo punto interverrebbero le forze di marea. Andiamo a vedere di cosa si tratta, perché non è una cosa allegra. Supponiamo di entrare in un buco nero a rana. A rana. È lo stile meno rapido per cercare di rallentare la caduta. Prima o poi cominceremo a sentirci stirare. Questo in realtà avviene anche sulla Terra. Se ci pensate, quando ci tuffiamo, stando dritti e verticali, la nostra testa si trova più distante dal centro della Terra rispetto ai nostri piedi. Se applichiamo la teoria della gravità, troveremo dunque che i nostri piedi sono attirati verso il centro della Terra con una forza un po' maggiore rispetto alla nostra testa. Ma la differenza è irrisoria e nessuno se ne accorge. Ecco, se cadete in un buco nero, la differenza non è più irrisoria. E ve ne accorgereste. A un certo punto, lo scarto con cui viene attirata la parte del vostro corpo più prossima al centro rispetto a quella più distante diventa così elevato da rendere assolutamente impossibile l'ipotesi di cavarsela. Del resto, se hanno chiamato questo fenomeno spaghettificazione, un motivo ci sarà. Giusto per puntualizzare, sottolineo che per quanto questo termine, che è veramente il termine usato in questi casi, venga utilizzato quando si parla di buchi neri, in realtà non è una loro prerogativa. Le forze che provocano la spaghettificazione sono chiamate anche forze di marea perché le maree seguono la stessa logica. È una cosa che vediamo tutti i giorni sulla Terra con gli oceani che si alzano e si abbassano o le vediamo nel Sistema Solare, per esempio ci sono satelliti di Giove e di Saturno che subiscono delle forti forze di marea, cioè quindi si deformano perché sono attratti gravitazionalmente dal pianeta gigante che hanno vicino. Abbiamo già fatto un video su questo tema dedicato a Encelado. Quindi per capirci io, ad esempio, potrei subire la spaghettificazione anche se dovessi capitare su una stella di neutroni. E allora non si può più andare da nessuna parte, buchi neri no, il Sole no, stelle di neutroni no, stiamo qui sulla Terra, basta, la gita intergalattica salta, c'è sempre la Luna. Qui a due passi, non c'è atmosfera, non c'è casino, un posto tranquillo. Ma quando noi cadiamo in un buco nero, cosa vede un amico dall'esterno? Proviamo a vedere ma facendo una semplificazione, cioè ipotizziamo che il buco nero non ruoti, perché sennò diventa un po' incasinato. Man mano che ci avviciniamo all'orizzonte degli eventi, l'amico ci vedrà cadere come alla moviola, rallentando sempre più fino a vederci fermare sull'orizzonte degli eventi, come se fossimo congelati lì. Il tempo infatti, come abbiamo già raccontato nella serie sulla relatività, rallenta per effetto dei forti campi gravitazionali. L'amico non ci vedrà mai cadere oltre l'orizzonte degli eventi, semplicemente a un certo punto la nostra immagine si dissolverà. Adesso è chiaro perché prende il nome di orizzonte degli eventi, perché è impossibile per un esterno vedere qualcosa che succede oltre quella linea. Lì gli eventi si cristallizzano e quello che succede dopo non ci è dato sapere. Nella scorsa puntata ho lasciato in sospeso il discorso legato ai buchi neri supermassicci al centro delle galassie. Faccio una specifica perché ho visto da qualche commento all'altro video che non mi sono espresso bene. Le galassie hanno al centro dei buchi neri supermassivi. Per supermassivi intendo milioni, talvolta miliardi di masse solari. La massa dell'intera galassia normalmente è molto maggiore di quella del buco nero. Ma nel gioco degli equilibri, quando un buco nero ha una massa equivalente a un po' di miliardi di stelle, come dire, fa la sua porca figura. Le galassie ruotano attorno a un centro di massa e di solito questo centro è dalle parti del buco nero. Su come diavolo si siano formati questi buchi neri e sul ruolo che hanno avuto nella formazione delle galassie navighiamo ancora in un mare di teorie e in attesa di una qualche conferma. La storia di questi oggetti divenne particolarmente avvincente a partire dagli anni 60, quando vennero scoperti i quasar. Sui quasar spero un giorno di riuscire a fare una puntata un po' particolare. Comunque in breve sono degli oggetti molto distanti, si parla dell'ordine dei miliardi di anni luce, che brillano con una fortissima intensità. Si pensa possano essere delle galassie giovani molto attive che concentrano la loro energia in un nucleo centrale in cui si trova molto probabilmente un buco nero supermassiccio. L'idea che il buco nero fosse qualcosa che si creava praticamente prima della formazione della galassia era qualcosa di tanto bizzarro quanto inaspettato. Questo ci fece pensare che i quasar potevano essere degli ottimi indicatori per scoprire i meccanismi di formazione delle galassie. Ci sono ancora molte ipotesi al vaglio, ma la sensazione è che nei prossimi anni si possa riuscire a trovare il bandolo della matassa grazie a nuove osservazioni. Soprattutto proprio delle radiazioni emesse dai quasar. E giungere a una spiegazione abbastanza completa di questo fenomeno dei buchi neri supermassicci al centro delle galassie e poi di conseguenza anche dei processi che agiscono nella formazione delle galassie in cui, pare scontato dirlo, i buchi neri sembrano, secondo alcune teorie, avere un ruolo chiave nell'innescare appunto la giostra degli eventi che porta poi alla formazione di questi giganteschi ammassi di stelle. Ma torniamo ora ai nostri buchi neri stellari perché molte affascinanti ipotesi su questi temi sono state fatte. Se ci pensiamo, i buchi neri sono pozzi di energia. Ma come fare ad estrarla? Nell'ergosfera, dicevamo, non si riesce a stare fermi. Mi spiego peggio. Se noi ci mettiamo nell'ottica delle leggi di Newton e prendiamo un corpo come ad esempio il Sole, vediamo che dei corpi stanno in orbita attorno a lui e non ci sono problemi di sorta nel senso che tutte le orbite vanno bene ossia sono stabili. Un oggetto più è vicino, più andrà veloce ma in sostanza poi se ne sta sulla sua orbita. Anche attorno ad un buco nero è così ma fino a un certo punto o meglio, fino all'ergosfera. Lì non c'è più la possibilità di un'orbita stabile. Sull'ergosfera ci ha lavorato uno scienziato di nome Penrose il quale ha studiato anche un modo per sfruttare un buco nero. L'ergosfera, in confronto all'orizzonte degli eventi, è una zona molto più comprensibile e diciamo abitabile. Penrose ha pensato come estrarre energia dal buco nero a partire dalla sua rotazione. Ha fatto dei calcoli ipotizzando che un oggetto nell'ergosfera si divida in due, una parte precipiti nel buco nero e l'altra parte invece riesca a sfuggire. Se questa operazione viene fatta con tutta una serie di accorgimenti la parte che sopravvive viene espulsa con un'energia maggiore di quella con cui era entrata ma così maggiore anche da coprire la sua perdita di massa perché essendo divisa in due ha perso anche della massa quella che è finita nel buco nero. Per farla breve ci troveremmo con un'energia maggiore di quella che avevamo all'inizio. Ma se noi adesso abbiamo più energia chi è che l'ha persa? Nell'ipotesi di Penrose è il buco nero che per effetto di questa operazione va a rallentare la sua rotazione bilanciando così il computo dell'energia. In conclusione il processo ruba momento angolare al buco nero il quale va man mano rallentando fino a trasformarsi in un buco nero statico. Attenzione non confondiamo questo processo con quello descritto da Hawking sull'evaporazione dei buchi neri che è un'altra cosa. Ovviamente il discorso è molto complesso e ad oggi totalmente irrealizzabile ma non si può escludere che una civiltà molto avanzata possa davvero riuscire a sfruttare l'energia contenuta nei buchi neri. Ma i buchi neri non hanno solo il fascino di essere dei pozzi di energia hanno anche quello di avere al loro interno dei cunicoli capaci di farci viaggiare nello spazio e nel tempo. Ma sarà proprio così? Andiamo a darci un'occhiata. Senza dubbio gran parte del fascino dei buchi neri sta nell'ipotesi ripresa anche in molti libri e film di fantascienza che questi oggetti possano essere dei ponti verso altri universi o anche un collegamento tra diverse regioni del nostro universo molto distanti tra loro. I cosiddetti warm holes. Ma questa è un'idea tutt'altro che recente e per questi pensieri strani non è stato necessario scoprire i buchi neri. Già ben prima della nascita di Einstein c'era chi fantasticava su possibili collegamenti fra parti lontane dello spazio. Erano prevalentemente i matematici. Perché noi pensiamo ai buchi neri come i soggetti più bizzarri dell'universo ma in realtà i soggetti più bizzarri dell'universo sono i matematici. Ne cito uno in particolare Charles Dawson e se qualcuno di voi è convinto di non averlo mai sentito probabilmente si sbaglia. A meno che non abbia mai veramente sentito parlare di Alice nel Paese delle Meraviglie e del suo autore. Dawson appunto meglio noto con lo pseudonimo di Lewis Carroll. E qui siamo poco dopo la metà dell'ottocento. Erano anni quelli e anche i successivi fino alla fine del secolo in cui diversi matematici si divertivano ad escogitare collegamenti fra spazi a più dimensioni. A metà degli anni 30 del secolo successivo però c'era una teoria quella della relatività che faceva supporre che tutto questo potesse davvero essere reale. Il suo ideatore un tale Albert Einstein di cui devo aver già parlato in qualche puntata insieme al suo collaboratore Nathan Rosen ipotizzò quello che venne chiamato Ponte Einstein-Rosen che non era un ponte che andava da Einstein a Rosen l'avevano chiamato così perché l'avevano scoperto Einstein e Rosen quindi l'avevano chiamato Einstein-Rosen basta andiamo avanti andiamo avanti. L'obiettivo dei due era quello di dimostrare che non vi erano delle singolarità. Sapete come dicevamo non è mai bello quando in certi punti la teoria si inceppa e sembrava che al centro del buco nero alla teoria della relatività succedesse proprio questo e in effetti i due riuscirono a scrivere una soluzione evitando la singolarità tramite un magheggio con un cambio di coordinate ma se da una parte evitarono una cosa bizzarra come il punto di singolarità che lo ricordo in questo caso è un punto dove il tempo si ferma dall'altra parte trovarono qualcosa di ancora più strano. In pratica al posto della singolarità trovarono un collegamento con un universo parallelo un ponte per l'appunto il ponte di Einstein Rosen detto in modo molto semplificato da un punto di vista matematico per evitare la singolarità si dovevano collegare due spazi tempo diversi insomma un qualcosa di simile alle storie di Alice nel Paese delle Meraviglie smorto subito gli entusiasmi e anche all'epoca la cosa non fece particolarmente scalpore in quanto il ponte era estremamente instabile ossia questa fantomatica connessione tra i due universi durava talmente poco da non permettere il passaggio nemmeno a un raggio di luce figuriamoci a un gatto perché per prima avremmo mandato di là i gatti per controllare se era un universo in cui valeva la pena viverci fermo qui dove vai che stavo scherzando vieni qua passarono una ventina d'anni e si cominciò a parlare di buchi neri intendo con questo termine questo grazie ad Archibald Wheeler uno dei maggiori esperti del settore il quale nel 1955 dimostrò che un tunnel spazio tempo può collegare anche due punti diversi dello stesso universo un po' come il sifone del water se uno passa dal sifone del water prende la colonna fecale e da lì potrebbe teoricamente collegarsi e risalire dal sifone di un altro water ah poesia pura oggi di solito si usa l'esempio della tazza e appunto ma non della tazza del water della tazza da bere che manico che collega due punti della tazza eh passarono altri otto anni e Roy Kerr portò ai massimi livelli la teoria contemplando il fenomeno dei buchi neri rotanti fece una suggestiva ipotesi la singolarità al centro del buco nero non era più un punto bensì un anello e da un anello come dire ci si potrebbe infilare per sbucare in un altro spazio e in un altro tempo ma anche qui sembra essere una situazione talmente instabile da essere considerato impossibile qualsiasi attraversamento in realtà vi è una matematica che rappresenta soluzioni della teoria della relatività generale in condizioni molto particolari su cui lavorò il grande Penrose che manovrando le varie equazioni ha prospettato la possibilità di sfruttare la singolarità d'anello per riuscire a girarci intorno e spostarsi su un buco bianco se ci sono i buchi neri ci si è detti allora esisterà qualcosa che invece al contrario espelle materia invece che inglobarla e li han chiamati buchi bianchi alcune soluzioni della relatività generale ammettono in effetti la loro esistenza ricordiamo a scanso di equivoci che non è detto che se delle equazioni ammettono l'esistenza di un oggetto questo esista potrebbe anche non esistere e sembrerebbe essere il caso dei buchi bianchi tra l'altro c'è un problema nella creazione di questi corpi infatti sembra molto probabile che la materia espulsa da un buco bianco tenda a ricadere all'interno finendo col trasformarlo in tempi rapidissimi in un buco nero allora il pensiero ricorrente è che vi sia sempre in natura una sorta di simmetria pensate al principio di azione reazione se qualcuno fa qualcosa da qualche altra parte deve esserci un altro che fa la stessa cosa ma all'inverso qualcuno che controbilancia spesso queste idee di equilibrio e di conservazione si sono rivelate vincenti nella storia della fisica ma tornando ai nostri buchi neri insomma non sembra esserci proprio possibilità di passare fuori ma un giorno a qualcuno venne un'idea nel 1985 l'astrofisico Carl Sagan che era un noto personaggio televisivo sta lavorando a un romanzo di fantascienza ma ci teneva per quanto fosse un'opera di fantasia ad essere il più realistico possibile nel suo racconto voleva collegare due regioni distanti della galassia con un tunnel spazio-temporale ma sapeva che sia il ponte di Einstein-Rosen che gli anelli di Kerr non avrebbero permesso ai suoi personaggi di fare l'attraversamento chiese dunque l'Umi a Kip Thorne un espertone di relatività con Thorne all'epoca lavorava un dottorando tale Michael Morris i due decidono di prendere sul serio la richiesta di Sagan e si mettono al lavoro per cercare di capire se esistono delle soluzioni come dire credibili a questo problema provarono un approccio completamente diverso perché visto il tipo di richiesta potevano anche in fondo permettersi di osare decisero di fare la lista delle condizioni che il wormhole in questione doveva soddisfare ossia aperto sempre stabile senza orizzonte degli eventi in mezzo ai piedi se no è un dramma senza singolarità senza forze di marea se no i tipi una volta passati dall'altra parte li scatolavano e li rivendevano come spaghetti al supermercato insomma un qualcosa in cui si potesse passare senza crepare in qualche modo strano Thorne immaginò tutto questo quello che non poteva immaginare è che c'era una soluzione ovviamente in teoria però in teoria potevano esistere buchi in cui le astronavi degli umani avrebbero potuto passare e non solo ma anche tornare indietro perché gli umani si sa si dimenticano sempre qualcosa quando partono ovviamente costruire e rendere attraversabile una cosa del genere non è assolutamente possibile con i mezzi che abbiamo e queste sono tutte speculazioni basate su teorie quantistiche attraverso le quali si ipotizza di riuscire a potremmo dire in un certo senso puntellare questo passaggio trovavo divertente congedarmi da questa serie sui buchi neri con una speculazione che se vogliamo estrema ma realizzata in ogni caso dai più grandi esperti del settore e per quanto questa prospettiva così suggestiva sia totalmente impossibile da realizzare non è vietato farci un pensierino rimanendo consci di essere nell'ambito delle ipotesi sbilanciarsi con la fantasia non ha mai fatto male alla scienza e anzi a volte ha aiutato aggiungere nuove scoperte non dovremmo mai dimenticarci la famosa frase di Haldane che diceva che l'universo non soltanto è più bizzarro di quello che supponiamo ma è molto più bizzarro di quello che siamo in grado di sopporre eccoci dunque arrivati alla fine di questa serie spero di essere riuscito a trasmettere un po' di informazioni interessanti su un mondo tanto affascinante quanto ancora misterioso come quello dei buchi neri di cui si sentono in effetti spesso anche parlare so di essere rimasto in superficie per certi passaggi e pertanto per i più curiosi di approfondire come sempre rimando alla bibliografia che metto in descrizione ai video e per i buchi neri in particolare abbiamo consultato ovviamente il grande classico di Hawking da Big Bang ai buchi neri anche il simpatico L'astrofisica per chi va di fretta di Neil deGrasse Tyson oppure il libro proprio specifico I buchi neri di Gapser e Pretorius poi per tutto ciò che riguarda Cosmo e Astronomia i libri della grande Margherita Hack vanno sempre benissimo poi abbiamo letto questo libro un po' datato ma in effetti molto molto ben fatto secondo me che è Buchi neri Warm Holes e Macchine del Tempo di Jim Al-Khalili e poi le illuminanti sintesi ovviamente di Bruce Benham Ramm ecco non è una top ten sono solo i libri che come dire mi sento fra quelli che ho letto di consigliarvi ce ne saranno sicuramente altri altrettanto interessanti anzi se qualcuno ha dei suggerimenti li scrive nei commenti e ci farà piacere ovviamente così creare una sorta di bibliografia nei commenti per chi volesse per l'appunto approfondire il tema ci tengo a precisare che non ho nessun tipo di rapporti con gli autori o le case editrici di questi libri che vi ho suggerito ecco non ho nessun interesse che voi li compriate era solo giusto per darvi degli spunti il libro invece che se comprate date una mano alle attività di Curious e dell'associazione Atelier è a quattro zampe nel cosmo collegato alle canzoni del cd Materia Oscura Corpi Celesti le nostre attività pubbliche sono riportate come sempre sul sito dell'associazione e quelle che riguardano il canale Curious le trovate anche sulla nostra pagina facebook se volete restare aggiornati sui nostri video come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella ringraziamo tutti coloro che ci sostengono la vostra generosità ci permette di finanziare le nostre attività e di continuare a progettare nuove avventure grazie ma dici che per il discorso di il fatto che abbiamo citato i libri eccetera dovremmo chiedere almeno un sacco di crocchette ma cosa faccio gli chiamo gli dico scusi ho citato il suo libro nel mio video Curious non potrebbe spedirci un sacco di crocchette visto che mi ha fatto pubblicità un po' forzata mi ha fatto pubblicità che si mi ha fatto pubblicità